Oggi vi parlerò di come vivevano le famiglie Andrisi all'inizio del Novecento. Allora, all'inizio del Novecento le mamme si svegliavano alle 4 di mattina per fare il pane, poi passavano in fornaio e davano una quota per fare infornare il pane. La mattina passava il lattaglio e suonava la campanella per avvisare la gente che acquistava il latte da lui stesso. Le mamme di una volta lavavano i cappi a mano con un legno dentellato e stropicciavano i tessuti con la cenere. Non esistevano acque e luce e si cucinava con le cucine a legno. Quando faceva freddo usavano la borsa dell'acqua a caldo. La pasta era fatta in casa e se ne faceva in quantità giusta senza buttar via nulla. I dolci erano riservati alle feste del Natale e Pasqua. Le ruse di vin cotto, marzapane, prezzelle e sfogliatelle e poi c'erano anche altri dolci vari che le famiglie andresi degustavano con grande allegria. Esisteva la cultura del riciclo. Difficilmente si buttava qualcosa. La sera nei giorni freddi si riscaldava col bracere e tutta la famiglia si radunava intorno per parlare, dato che molte famiglie non avevano la televisione. La maggior parte delle famiglie avevano il traino col cavallo che lo trascinava e la bicicletta ce l'avevano i ricchi soltanto. Potevano andare all'università solo i figli delle famiglie benestanti. Andavano al mare col traino e soggiornavano per alcuni periodi brevi, una volta al mese. Nei periodi caldissimi portavano con sé pane, pomodori, olive e vino. Era più facile andare in campagna per le belle scampagnate, dato che la campagna era più vicina e l'aria fresca faceva bene. Prima vivevano in una stessa stanza, nonno, nonna, genitori, figli e animali. Come vi ho raccontato, si viveva la povertà, non come ora che ognuno ha la sua stanza, ha i suoi privilegi, ha le sue cose personalizzate. Si vivevano più i valori. È vero che erano più poveri, è vero che erano più... Si lavavano raramente tutte queste colpe, data la povertà che era estrema. Infatti molte famiglie non vivevano, non vedevano i soldi da tempo. Però vivevano molti valori dell'amicizia, della famiglia, il valore verso la chiesa cristiana, verso tante forme di bellezza. Il valore della società, si tenevano molto gli amici e il valore degli amici si era molto coltivato perché quando prima si avevano degli amici si tenevano, erano come dei pezzi di cuore. Ora invece con Facebook gli amici vanno e vengono, è cambiata la società, si dà meno valore alle cose formali e si dà più valore alle cose materiali. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video.